Ed oggi, cari amici, è lo Svevo Day, ovvero il giorno in cui tra Gorizia e Trieste si snodano tutta una serie di manifestazioni per celebrare i cento anni dalla pubblicazione della coscienza di Zeno di Italo Svevo. E questa è anche la settimana del cosiddetto Black Friday in cui si propongono acquisti molto scontati. Ebbene, vi segnalo un acquisto super scontato che è l'ebook da me pubblicato da alcuni anni, che raccoglie i romanzi di Italo Svevo, Una vita, Senilità e la coscienza di Zeno, con una introduzione molto esclusiva, ovvero una mia lunga intervista fatta a suo tempo a Letizia Fonda Savio, la figlia di Italo Svevo, che ci svela un ritratto familiare del grande scrittore. Buona lettura.